Grazie a tutti. 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 In Iran, Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. a tutti. e 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 tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e... e tutti. 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 e... e tutti. e... e tutti. e... e... e tutti. e... 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 ... e... 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 ... e... ... ... e... ... e... ... e... ... e... ... e... ... 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 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... ... ... ... ...... 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 ... ...... 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 ... ...... ... ...... ... ...... ... scondi in lacrime, braccato da una voce di penetrante acciaio. Norma, che scuote insieme carne e stella, tra passaggiare il mio petto addolorato e le fosche parole hanno addettato le ali della tua anima severa. Gruppo di gente salta nei giardini, che attende il corpo tuo e il corpo d'io, la nostra agonia su cavalli di luce e verdi crini. Ma continuo a dormire l'Italia. Senti il mio sangue rotto nei violini. Attenta, amore, c'è ancora chi ci spia. Grazie. Salve a tutti. Vorrei sapere qual è la vostra posizione riguardo i matrimoni tra uno sessuale. sicuramente sapranno rispondere, ma io ne hanno seguito poi a contosbattere. Ci sono forme di matrimonio, non facciamo lezione, ci siamo seccati questo. C'è la forma civile, diciamo, classica e quella in chiesa. Io devo dire che, a mio modo di vedere, cambia la situazione, perché sulla regione civile non si discute. È giusto che il diritto alla felicità americana debba essere anche prodotto qui in Italia. Tutti hanno il diritto di essere felice e fare famiglia. Sulla questione sacramentale del matrimonio in chiesa, purtroppo è inutile a metterci città le conti, la Bibbia. A mio modo di vedere non si può e non si potrà mai in quanto sarebbe ritoccare quelle che sono tutte le fondamenta sulle quali si basa la nostra religione. Soprattutto il concetto di matrimonio, che è sempre stato visto a via della sacralità, che è sempre stato visto come il mezzo per la propria azione diretta, questo è proprio una tra i donne della nostra religione. È logico che in quelle coppie che dove non è diretta l'associazione comunque della propria azione, ma si deve intervenire via adozione, in altri modi, anche la scelta di rimanere comunque senza i figli, è logico che lì non è possibile procedere. Quindi la mia risposta è sì per il matrimonio in chiesa e non per il matrimonio in chiesa. Ok, a questo punto posso parlare gli avvocati chianti e poi anche stori. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Antonio Bianchi. Per hobby faccio l'approcato, per hobby faccio l'essere di dritto, per hobby mi occupo anche di società, perché quando le cose si fanno per hobby, si fanno molto meglio. Per cui non ritengo che ti chiettare neanche verso l'unità, né di stare qui a far l'approcato su un tema molto molto importante, perché per alcuni temi non ci sono avvocati, non ci sono magistrati, non ci sono lecci. Soprattutto penso anche che magari in questo momento, per ragazze, è difficile ascoltarmi, però proprio il caldo racconso l'età moltissimo. Però cercherò un po' di svegliare anche a me stesso. Tutto quello che è stato detto, quasi quasi importante alla roba, diciamo che si ha unito un po' tutto, sia da una parte che dall'altra, quasi a trovare una sorta di arena, non quella di Ciletti, ma di questo splendido comune di Catanzaro, dove oggi c'è la grande opportunità di interagire con voi, ragazzi. Perché io vi devo l'immigrazione, inoltre che questo deve parlare l'intera società. Perché? Perché meno male che ci siete voi, perché altrimenti questa società non avrebbe senso. Perché non avrebbe senso? Perché voi tante cose le avete già raggiunto. Mentre noi stiamo qui a parlare di leggi, di commissioni parlamentari o di strategie possibili per superare il pregiudizio, voi il pregiudizio l'avete già superato. Io vi ringrazio perché posso imparare da voi il superamento del pregiudizio. Perché voi vivete la società. Mentre noi a volte ci chiudiamo nei nostri uffici, nei nostri studi, nelle nostre atture, no? A fare un po' il resoconto di quello che deve essere la società, voi la città l'avete già vissuta, la vivete. Diversamente da come l'ho vissuta io, perché non c'era quella formale di promiscuità, no? Venti anni fa, trent'anni fa. Non c'era, perché ricordo molto bene delle strade del mio paese che non era possibile, no? Camminare, giocare, parlarsi tra ragazzi e ragazze. Oggi c'è una società giovane che è riuscita a fare questo, no? E quasi mi dispiace che siamo qui, qui a dire cose o a trovare soluzioni su un problema che non esiste. Perché non esiste? Perché innanzitutto già nel 1989 c'è stata una sorta di rivoluzione copernicana, no? Dove i bambini, che erano oggetto e strumenti, perché se ne parlo si parla di questo ancora oggi, dal bambino sono passati ad essere persone. Per me il progetto di persone sussiste sempre, non capisco perché nel 2014. Si parla di questi termini e si abbia questa paura quando già nel quattro e sesso secolo di Cristo queste parole non avevano fatto. Alla faccia del progresso, alla faccia dello sviluppo, alla faccia dei secoli che passano, no? Noi ci troviamo adesso qui a parlare di un tema che ha avviso oggi, ne prendo conoscenza anche se qualche aspetto, anche sotto l'aspetto emozionale. Perché? Perché le cose che ho sentito, le testimonianze che sono state espresse, mi hanno fatto capire il tantico. Perché noi relatori, quando ci prepariamo ad affrontare un dibattito, stiamo lì con foglietti, con un computer, no? A scrivere un po' di scalette per dire quello che dovremmo dire. In realtà si rischia di dire quello che avevamo previsto di dire. Perché? Perché era la... c'è sempre quella possibilità di suggerire qualcosa che sta parlando o chi è già parlato. guardate, si è parlato molto di ebrei, di quant'altro, no? Guardate, tra tre giorni ricordo la giornata della memoria. Perché il 27 gennaio del 1945 le forze areate e la mano rossa liberavano i campi di concentramento. Solo che a un certo punto mi viene da dire cosa c'entra adesso l'omosessualità con i campi di concentramento. Perché forse dovremmo un po' scomodare e spolverare quei limiti di storia. Perché la storia, no, non l'ha fatta chi l'ha scritta. L'ha fatta chi l'ha vissuta. L'hanno fatta i protagonisti. Non chi l'ha scritta. Quelli sono autori che possono anche tergiversare di quelle cose. Io posso scrivere delle cose perché mi sono documentato. Posso scrivere anche delle resiglie. Posso scrivere anche in maniera erronea, no, la storia. Posso tergiversare in base anche al mio punto di vista. Al mio punto di vista politico, ideologico. Quindi a volte le storie sono ingannevoli. Perché c'è stata, c'è una sorta di dispersione, no? Di orientamento, altro che orientamento delle idee. Una sorta di dispersione. Dicevano gli omosessuali venivano a guardare. L'omosessualità è stata perseguitata soltanto dai tedeschi. Solo nei confronti degli omosessuali tedeschi. Non degli omosessuali italiani, inglesi, francesi. Al contrario di quello che ha avvenuto dagli ebrei. Perché gli ebrei sono stati sterminati di 6 milioni, anche 7 milioni. Gli omosessuali erano solo 7 mila ad essere stati uccisi. 60 mila internati. Attenzione. Nel 1936 sono stati i primi ad essere internati, ma solo in Germania. Pensate che nel 1936, durante le Olimpiadi, furono, diciamo, sfruttate a ripulire le strade di Berlino. Quindi un in Germania sono sprocessati, solo perché c'era un articolo 175, tra l'altro è vergognoso, perché è stato in vigore fino al 1994. Quindi io credo che quella Germania sia avvenuta, forse evitata che sia avvenuta, ma dal 1872 al 1994 era in vigore del codice menato in cittadino con cui si processavano gli omosessuali perché la Germania non tollerava un rapporto omosessuale tra uomini, non tra donne, tra uomini. Solo successivamente nel 1994, e poi c'è stato anche nel 1969 l'imperazione, insomma, un movimento di liberazione omosessuale, pertanto, pensate, pensate che etichettavano gli omosessuali durante la, durante lo stornio, non ancora con il triángulo rosa, ma con un braccialetto, un braccialetto sul quale già avrò, c'era incisa un'ama iuscola, che voleva dire, in termini tedeschi, adesso non mi ricordo il termine, voleva significare sovunita, sovunita. Poi successamente, in base alla filosofia iconografica, di quella cultura teutonica e del nazismo, si furono impegnati con il triángulo rosa. Tra l'altro, tra l'altro, i coloro che poi furono liberati dalle forze alleate, non furono nemmeno liberati, perché processati in quel periodo, se avevano già, ad esempio, un omosessuale che viene condannato a 8 anni di reclusione, in base alla relazione dell'articolo 125, che poi ha il tuo periodo, e aveva scontato 5 anni e poi veniva internato nei campi di concentramento per 3 anni, quei 3 anni gli doveva poi riscontare in carcere, perché non aveva previsto l'interazione, però, a differenza di ebrei. Io quindi credo che gli omosessuali siano stati anche perseguitati diversamente dagli ebrei, però solo i tedeschi, quindi noi italiani, forse questa piaga, almeno da quel punto di vista, non l'abbiamo seguita. Però, voglio dire, perché oggi siamo qui ancora a parlare di queste cose? Eppure l'omosessualità oggi rappresenta una forma di amore. Lo rappresentava nel IV e VI secolo d'Anticristo, ma voi voi ricordate a quel filosofo, Socrate, del cui ha innamorato il suo discepolo, no? Allora si cercava di, attraverso Plutacco e attraverso altri autori creci, di trasmettere quello che era l'amore greco. Ora, siamo parlato del IV e VI secolo d'Anticristo, fin anche durante il periodo in cui viveva Gesù, non ci viene parlando, non ci viene parlando, non ci viene parlando del IV, si parla di prostitute, si parla di tradimenti, di adulterio, ma dal Vangelo non viene fuori, non viene fuori. Cosa perché viene fuori? Qualcuno ha una volla di far fuori. Eppure, sto parlando del qualche anno, nel VI secolo avanti Cristo, quando questa figura c'era, quando questo amore era, diciamo, espresso liberamente, senza che qualcuno se ne disegnasse. Invece oggi, invece oggi stiamo qui a parlare di omofobio, ma come è libero? Innanzitutto, etimologicamente parlando, omos significa lo stesso, epobia, paure, quindi paura di uno stesso. Dovremmo parlare, perché se è vero, se si parla di diversità, bisogna parlare di eterologia, cioè paura dell'altro, cioè del diverso, perché etero significa diverso, significa altro. Ma guardate, ragazzi, lo dico a voi, io non ho paura dell'omosessualità, io ho paura dell'etero sessuale che per strada si ferma e sfrutta quelle ragazze e quelle donne lì che stanno a costruirsi, no? Quelle schiavi tu, da parte dell'etero sessuale, perché non è sfrutta? E' quella società! perché la cosa schifo deve venire fuori quando vede un padre di bambino, altro che coppia, altro che amore e qualc'altro, altro che dimersione, altro che schifo, quando il padre si ferma, perché un padre? Perché non è che si ferma? Perché non è che si ferma? Perché non è che si ferma? con una donna venuta da fuori, no? Perché poi c'è, nel nostro ordinamento esiste anche la paura XÈ, la paura degli stranieri, però quando ci compiere dei nostri porcicologi non ci stanno nemmeno affatto, le amiamo per cinque minuti, ma le amiamo, le amiamo. Di questo paura, ma questo mi fa schifo, cari amici, questo mi fa schifo. Mi fa schifo il signore che si mi saggiorò indietro. Quindi si fa un po' che quello ha messo anche dei figli a casa. E cambia! E parli a incamerare virus. Perché voi lo sapete bene la storia, che si ha una società di virus, si ha una società di contagio continuo, no? Perché quello schifo viene porto da questo spuntamento del corpo e poi si fa la benedità, che lo scusa, caro amico mio, hai forse anche ragione, ma il nudo non lo troviamo nelle pubblicità. La formografia non lo troviamo nei gesti, nei gesti, nei gesti di altri uomini che credono di essere perfetti, dimostriamo, dimostriamo una società perfetta, perfetta che crede di vedere le le perfezioni da dove tutto poi viene fatto con l'amore. In amore non ci sono le leggi, in amore non ci sono giustizie. E noi stiamo qui a trovare leggi per vedere un po' come tutelare queste cose. L'amore non si libera. L'amore si vive liberamente. Poi si può parlare di legalità. L'amore è il discorso carico. Ecco, ma non stiamo parlando di altri legali. Non stiamo parlando di violenza sessuale. Mi sembra di essere intervenuto in un concreto sul loro esistitato, ovvero, ovvero, in quel sentimento, perché possiamo parlare anche di sentimentalismo e quindi di amore, perché è vero che il sentimento non sta a base dei rapporti interpersonali. Chi siamo? No. Quando andiamo qualcuno, siamo innamorati. Vedete? Innamorarsi di una persona significa, significa condividere, condividere la vita. Nella vita Dio ha creato anche la sessualità. Poi che serva per alcune cose. O serva tanto l'importante che non serva a fare del male. L'importante che non serva a punire l'altro. L'importante non serva anche la sessualità. L'omosessualità oggi prende anche altri nomi, no? Gay, quest'altro. Eh, hanno scelto questo nome, soprattutto io credo che gay sia, diciamo, pubblico, neologismi, ok? Perché se andiamo a vedere questo significato, un etnologico, l'inglese, o nel provenzale voleva dire un'altra cosa, no? Addirittura c'erano i cosiddetti gay house, gay woman, cioè che voleva dire un'altra cosa. Poi il termine è stato un po' trasformato. Ma, scusate, se l'umanità, no? Si attaccasse, e si attaccasse al, al vero, no? Sono stati tutti gritti. Allora, siamo un po' che vuole andare in un testo. Le trascuriamo e lasciamo dietro di noi questo sentimento, le nostre idee. A volte preghiamo il nostro cervello e lo rientriamo a casa. E con essi sono anche il cuore. Anche il cuore. Perché? Perché abbiamo bisogno delle norme. Vedete? Uno dà fuori la parola normale. Chi è normale? Io non lo so se sono normale. Non lo so. Sapete perché? Non lo so. Perché normale significa essere conforme a delle regole. No, ma regole, in greco, significa questo. Significa essere normale. Guardate, l'orofobia, no? Che poi tira fuori altre parole, il nazismo, per tira fuori il bullismo, tutte queste cose qua, la xenofobia, l'anisemitismo e quant'altro. Ma sapete che si può soltanto chiamare? Perché stai vicino a me per così. Ma lei mi ha detto, mi ha pronunciato una parola che non mi è piaciuta fare. Chi? Io sono una ragazza di coloro. No, ma di coloro c'è. Adesso sono emozionato e magari sono grossi. Mi sentirò male, mi sentirò bianco. Quando voglio, forse sono viola. Quindi di colore sono io. Prendo coscienza del mio colore. Quei colori che non funzionano. Quei colori che scoloriscono. Non il suo colore. Che guarda il chisce, il chisce da voi. E anche le tenelezze, perché io non sono tenelezze. Grazie. 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 stati presi, loro si sono prestati a questo esperimento e loro si sono andati in una città diversa da loro, si camminavano per mano, facevano la spesa e tutti, tutti si meravigliavano, si scandalizzavano, chi sei tu? Chi sei tu? Chi sei tu? Un padre che è un padre superato, un padre che ha trattato i figli, chi sei tu? Un padre che non corrisponde veramente, un padre che si è dimenticato di dialogare, chi sei tu? Sei un padre che guarda la televisione e si è per parlare, chi sei tu? Per scandalizzare, chi sei, chi sono tu? Per scandalizzare, uno, un cittadino di questa società che ha trascurato altre cose, ha dimenticato che cos'è essere davvero cristiano, io non sono cattolico, io sono cristiano, perché dire essere cattolico è troppo interessante, è troppo generico, perché essere cristiano significa essere di concordini a Cristo, non alla Chiesa, la Chiesa può avere anche l'ottrina diverso, Cristo aveva una sola dottrina, la dottrina dell'amore, non attrigerà Poi questo è un altro discorso, perché noi li facciamo un pochino indipendente. E poi, scusate, la parola anche, l'esito, queste cose qui, non è, ma l'esito è un altro bacio, ragazzi, eh. La parola cilievo, soprattutto la sapo, una protessa greca, un filoso, una donna, e qui in Asparta l'esito era un'isola dove le donne non facevano altro che incalarsi al matrimonio, no? Siamo a un'altra di loro, per loro era una preparazione, ma comunque sono riempometri, sono teorie, sono contesti storici diversi, non stiamo più morti. Tiene solo da lì la parola lesbica, quindi se la volete utilizzare, non fatemi ricorda, utilizzate liberamente la parola lesbica. Magari lasciare stare altre parole un po', parolacce, non servono a nessuno, servono a offendere. Nessuno deve offendere l'altro, perché c'è il rispetto, questo rispetto viene fuori anche in altre norme, diciamo. Non che dobbiamo mettere un reato, quella discriminazione. Eh, la discriminazione è venuta fuori come reato contro l'umanità. Mi sono fatto già un reumperto, perché c'è sempre questa forma di discriminazione. Ma deve essere la società l'unico giudice. L'unico giudice, ragazzi, dovete essere voi. La scuola è una grande palestra dove vi preparate ad essere soldati e giudici di questa società. Questa società che ha bisogno di voi, ha bisogno di nuove norme, ma non norme del codice, norme sociali, le norme del rispetto. Ha bisogno di tutte queste cose, perché noi siamo qui oggi a parlare di un tema che a me dovrebbe essere già superato. E io sono convinto che voi l'avete già superato. Poi, alcuni opinioni, alcuni punti di vista sono dedicati all'educazione, alla tradizione. Ma a volte l'educazione e la tradizione a volte non sono sempre esatte. Bisogna anche a volte camminare con la tua testa. Allora, io riferisco, visto che sono cristiano, a delle parole che disse Giovanni Paolo II quando fu eletto Papa. Papa Francesco, non c'è bisogno di parlare. Voglio parlare di Giovanni Paolo II quando ha detto Papa Francesco sta mettendo in atto l'aspetto cristiano. Giovanni Paolo II con un grande politico cristiano ha detto non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non le possiamo spalancate le porte a Cristo. Non le possiamo aprire se siamo un popolo paudoso, se siamo un popolo omofobo, se siamo un popolo razzista. Questi soggetti non hanno cuore, non hanno cervello. Sono stati così costruiti da una società che ormai sta perdendo i suoi valori. A voi ragazzi il convito di riprenderlo in mano e fate grande cosa. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a Universo Minori per questo secondo invito. Le origine sono bevegefaj bene. Sono stato già partecipato a uno precedentemente un incidente convegno sul gesto dellaicemvieria osteomi via Vocolco Vieli e quello che si è consentato andare a passare in La nostra legislazione è molto differente come tutela di atteggiare i conti e i comodi. Volevo solamente rispondere a quella ragazza che ha fatto una domanda e quindi ha chiesto come si fa a odiare questo sesso. Io ritengo che la tutela dei vizi e della dignità umana per il prossimo percorso è molto lungo e stravagliato e quindi si giunge alla tutela della dignità, della parità e del diritto per approssimazioni successive. Purtroppo mi costa verificare che l'Italia sotto questo aspetto è ancora molto barretrata perché come dicevamo prima non c'è una legge ad odio che tuteli l'omosessuale contro il comportamento, attività, atti di odio e carattere l'omosessuale. Cosa succede? Che in un primo testo legislativo che è finito dalla legge mercina del 1993 che includeva la funzione dei consigliati di opinione e quindi sostanzialmente sanzionava penalmente atteggiamenti ispiratori all'odio di carattere nazista, in un primo testo legislativo e in un'altra scrittura è stata inserita anche una norma che tutelava la funzione democopbici. Questo purtroppo è stato avversato da una certa classe politica e quindi non è passata in la scrittura tutto il primo testo normativo per cui la tutela contro l'omosessuale che avvenne esputta dall'ultimo testo legislativo. Volevo dare anche una risposta a questo ragazzo che poc'anzi ha detto che le vittime della Shoah non sono state 6 milioni quasi per giustificare ma anche se fossero state solamente 10 persone non 6 milioni è sempre un atteggiamento condannabile o un atteggiamento che cagiona la morte di persone a maggior ragione di tutti i vittorio. E' necessario capire che grazie al sacrificio di nostri compagniologi noi e voi tutti vivrete in una società dove si viene una massima tutela del diritto e quindi dovrete considerarvi una categoria privilegiata perché come la più a poco vi esplorò ci sono dei paesi dove alcune categorie di persone come anche gli omosessuali non sono affatto tutelati ma anche sono condannati a morte. Quindi non dobbiamo dimenticare che possiamo ritenerci fortunati per vivere in un paese civile dove tutti i valori e i principi di dignità umana sono tutelati. E allora io ritengo che questa lacuna legislativa che trova sempre purtroppo anche l'avversione di una certa sfera religiosa che non vogliono fare passare il principio di tutela della categoria professore per non arrivare poi al matrimonio tra la coppia e lo stesso sesso questa tutela appunto è stata sempre apprezzata anche purtroppo da quella parte della chiesa cattolica che è responsabile a una forma di tutela. Non dimenticiamo purtroppo e anche per quanto è stato la cittadina nazista che ha visto oltre 6 milioni di morti. Anche in quel caso mi dispiace di sostenerlo anche la chiesa ha sostenuto il cittadina nazista sostenendo diversamente dalle ideologie naziste che non era una diversità di razza pensi che era una diversità religiosa e quindi non ha fatto oltre che avvarlare oltre 6 milioni di morti che sono avvenuti durante tutto il periodo nero della nostra storia. Il problema dell'omotopia che purtroppo ha ordinato una lacuna gravissima nel nostro ordinamento, come già anticipato prima l'avvocato dell'onorevole Angela Napoli, in Italia non si è riuscita appunto ad avere alcuna legislazione di tutela per dei cammini di carattere costituzionale nel momento in cui si è cercato di essere tutelare maggiormente l'omosessuale da conto di odio, nel momento in cui era stata una proposta di legge che prevedeva una circostanza aggravante per tutti i due fatti che fossero stati determinati da odio della legge omosessuale. Il problema è stato sostanzialmente chiuso con anticipato come l'onorevole Angela Napoli, che è solamente un cavillo di carattere costituzionale e quindi una pregiudiziale costituzionale, nel senso che non si è voluta inserire un'aggravanza che prendesse spessamente una maggior pena per tutti quegli altri, per tutti quegli altri che erano contratti e che suscitavano amore di risposta costituzionale, per una migliorazione di un uganizzazione sui christianoi, per un uganizzazione sui schienoi due fatti che si è voluto evitare un uganizzante di scu�버�igiazze. Quindi hanno sostenuto, e potresti anche inviare un uganizzante di consigliose, hanno sostenuto che creare una cosa trasportiva di circostanza aggravantica per fare una determinata costituzionale, per te lo dirà, di sottibili, viola il principio Il problema è che la tutela non contendere la condanna dei confrontamenti umoportici a una tutela che possiamo dire che è una tutela macchina di libertà, questo è l'ambito della comunità europea, che ha sempre invitato i paesi alla volontà dell'ingegnazione di un'informe che non spera di comportamenti umoportici. E mentre noi assentiamo i suoi paesi, come anche la nata, 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 la nata. E quindi si darà un po' di volontà di ritorno a te, appunto, all'inizio, perché c'è adesso una proposta, invece, che è portata, appunto, alla Camera e alla Norma, al Senato. Quindi, nella storia passata, più pronto, dobbiamo ancora rispondare questa fortissima latuna di creare i confronti di un problema sessuale. Allora, c'è un problema, ci potrebbe fare un problema su questa gestione. Visto che la norma, nonostante, deve tutelare un valore, bisogna capire se l'omosessualità è identificabile come un valore. Allora, qualora lui si volesse identificare l'omosessualità come un valore, il valore da tutelare nei confronti omosessuali è la dignità della loro, del loro status. se lo vogliamo definire in questo modo, qui è sempre auspicabile una norma di tutela, appunto, che tuteli tutti gli omosessuali e quindi combattono tutti i miei confronti omopopici, in quanto, sì, la tutela non è nei confronti dell'omosessuale, ma nel valore della dignità umana che è omosessualità esattiva. Ci sono, nell'ambito della geografia mondiale, purtroppo, e quindi per questo vi faccio solo dei giorni, penso che lo diceva invece che siamo fortunati appunto a vivere in un paese civile dove abbiamo una tutela, appunto, della dignità e dei diritti fondamentali della persona umana, poi invece ci sono alcuni paesi, e noi abbiamo un caso, appunto in studio, come la Corea in Brasile, dove addirittura l'omosessualità è punita con la volta, e quindi abbiamo paesi tipo l'Iran, l'Afghanistan, o i Paesi Arabi, gli Emirati Arabi, che addirittura sanzionano con la pena di morte l'omosessualità. Questo, però, è un principio che, come diceva all'inizio il discorso Canizzaro, è legato a, diciamo, un credo di carattere religioso. E' chiaro che nei paesi Arabi, dove l'omosessualità è punita con la pena di morte, è chiaro che dopo si rifanno da quelli che sono i principi panamici. E quindi il principio panamico vuole che è l'atto omosessuale determinando una sottomissione di un soggetto rispetto a un altro. Questo, però, vale solamente, questa è una valutina della scelina, ritengo, perché vale solamente per gli uomini e non per gli uomini. L'atto di sottomissione non può essere un atto inconducibile all'essere umano, infatti, l'atto di sottomissione è solamente dobbio di Allah, tanto che gli sanzibili da sottomissione all'oponente di Allah. Per cui, secondo un principio panamico, in cui molti paesi Arabi, soprattutto negli Emirati Arabi, l'omosessualità è fondannata con la pena capitata. Io ritengo che questa sia un'abberazione, e ritengo che sia anche un'abberazione il fatto che l'Italia non si sia uniformata anche i paesi che possono ritenere più civili di nuovo sotto questo aspetto, in quanto non sia stata dotata ancora di una legislazione a tutela di comportamenti dei biologi, di comportamenti omosessuali. Un'ultima notazione, sempre per rispondere al ragazzo, a questo ragazzo con la camicia verde che si lamentava ormai, appunto, nell'abito dei gay tradi, si... si... nell'abito dei gay tradi, che intorno si vede dal punto dello sessuale, che si era nudi, io sicuramente ritengo che questa nuova manifestazione sia una manifestazione di estremismo, ma ritengo che sia ancora più estremo l'atteggiamento dell'Italia che in tutela determinate categorie. e quindi... Io, in termini anche perché penso che ci sia qualcuno della sua parola, la vostra, e della tua politica, e quindi non voglio... Grazie. Giusto per chiarezza, per verità storica, una risposta dall'Avvocato Bianchi nel confronto, assolutamente, non per la polemica. Il paragrafo 175 è stato istituito dalle leggi brussiane, quindi ancora prima del terzo line è stato inastrito dalla realtà, appunto, da Hitler, perché, appunto, comette Violet come condizione che deve essere uccisa o curata in tantissimi aspetti. Però, in Italia il terreno non è mai stata normata una legge contro gli omosessuali, ma perché, come lei, in serie, il codice rocco è evitato in quel periodo, non poteva minimamente considerare la presenza, rispetto alla virilità dell'uomo italico, di uomini omosessuali. quindi non è minimamente considerare è penso essere sbagliati o penso essere nulla. Questa è sempre la grande domanda, non lo so. Cioè, per il tempo ci darà una risposta. e, appunto, in Italia in Germania nemmeno ce l'avamo anche se perfermitati. No, e un'ultima cosa, all'interno dei campi di concentramento lei non so se ha mai si è messo fermato sul triangolo negro. Cioè, c'è stata, non è mai stata perseguitata la donna lesbica in quanto lesbica, ma in quanto prostituta, in quanto pervertita al pari, quindi, appunto, di atteggiamenti rascini è considerata, oltretutto, come associata. Cioè, la donna non era una persona, non era considerata al pari delle cose e lo dimostra anche il diritto di voto assente che, appunto, in Germania non c'era, e il fatto che finissero, appunto, trattare al pari delle questioni. Posso dire una cosa? io, scusa se lei ha fatto bene se c'è stata questa cosa. Ovviamente, ci siamo, perché comunque, è una legge semplice. Ho lamentato il fatto che questo che questo articolo sia vissuto fino al numero 14. Quindi, non ho potuto sottolineare il piano di merda e il caso dell'altro. Bigliacchierie commesse perché, in quel periodo, anche nella nostra verità, c'erano le cosiddette leggi naziarie a lottare dal nostro Stato autoritario in cui, poi, io, in un momento, faccio dimostrare la sua arte, il suo film, ha fatto capire cose molto importanti. Quando, in questo negozio non è concesso l'ingresso agli ebrei, ai cani, allora, per sfatare ancora cosa, disse al figlio si, ma nell'altro non è concesso entrale di spagnoli ai cannelli. Ecco, però, questo è un livello italiano, quella che è stata, poi, 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 anche, dalla nostra bell'Italia, quel periodo storico, voleva dire anche questo. Solo che non abbiamo tempo per scegliare e, forse, forse, un osservatorio provinciale che giocherà a tempo dei dati ufficiali, se questo, è, no, c'è, in maniera, possibile, una base, eh, appunto, le risposte sono sulla differenza o sulla qualità da parte dell'Italia e della monosessualità. E spero anche un'altra cosa, spero che le scuole del lunedì ve lo farò. non si incontri con queste strane, come di si, preferirà fare altro, geografia, italiana, ma non si ricorderà questa giornata. Io spero che si faccia questo discorso di giorni, di giorni, a notte, bisogna capire quello che è successo laddò i libri, non riesco a capire. L'ultima cosa, prego, per quanto riguarda le, le, le azioni legislativi della, della vecchia Germania, bisogna escidere quello che è l'aspetto normale, quello che è l'aspetto sostanziale, perché, purtroppo, per loro, quei tedeschi che hanno sempre adorato la razza ariana, quindi la razza pura, rappela degli artisti di storia che anche i prodotti girati nazisti fossero adusi alla pratica omosessuali. Quindi, non guardiamo solamente quello che è una facciata, una facciata, e bisogna anche dare un'altra particolare protezione. L'omosessualità, che, appunto, come diceva prima la psicologa è stata assunta, poi la patologia, si sviluppa. Nel senso che, tutte quelle comunità omosessuali, in tutte le comunità, dove ricevono una diversità e quindi una condizione tra maschi e femmine, ci sviluppa l'omosessualità. Prova ne sono, i lunghi viaggi che si facevano a volte in una economia per cantine, dove le merci venivano transitate con le navi, dove c'erano solamente maschi, si sviluppavano l'omosessualità, e una prova attuale è l'omosessualità che sviluppa nelle carceri. Quindi, non dobbiamo vedere il problema come un aspetto patologico, perché la scienza medica dapprima la vedeva come una patologia, ma è una sessualità che si sviluppa. C'è poi anche una storia della psicologica più complice di me secondo la quale la sessualità è una scelta in base al momento di vita, e quindi in base alla posizione che voglio assumere. Non rivediamo in natura che ci sono alcuni pesci che nascono una specie che ne vogliono termine. Quindi, è un aspetto naturale, quindi non è assolutamente una patologia, si può sviluppare ed è espressamente prevista dalla nostra natura dalla natura delle cose, quindi... Sì, non solo cosa, però il titolo... Io ritengo che che è normale in una punizione dei confronti omosessuali sia sicuramente un'ambernazione del diritto, ma sia proprio tra i principi naturali. la patologia è stata definita fino agli anni 70, dal via esterno, dopodiché il titolo patologico è venuto a meno. Per quanto riguarda il biannire diciamo, sessuale, diciamo, non siamo tutti bisessuali, quindi poi la scelta può dipendere o da una propria definizione, diciamo, naturale o anche da lenti, come diceva prima giustamente, il fatto di sperimentarsi in qualche modo omosessuale nelle carceri è appunto un'esperienza di vita che può magari risvegliare una parte entità di sé, quindi... Buongiorno a tutti, io ve lo ricordo. Tutte le persone che ci sono oggi parlano un po' un po' con la povertà e l'omosessualità. Questo problema che non c'è stato da 30 anni, ci sono 30 investiti di miliardi di euro che sarei... dove sono andato a definire questi soldi per finire? O se si scrive oggi ancora c'è un po' nel mondo. Però sono andato a finire i soldi investiti dalla gente. Vuol ripetere la domanda per se c'era? per se c'era un po' un po' un po' un po' un po' un po' ripsi con difficoltà economiche ci sono Lemon sull'associazione, pure per aiutare persone con un disagio sociale, ci sono stati dei fuori, persone, tutte le associazioni, persone unici, per essere una data dinamica, per aiutare persone, io sento tutti i nomi di un'automobile. L'omosessualità è gestita da situazioni che difendono l'omosessuale e si campano di volontariato, non di soldi forniti, questa è la sostanziale differenza, viviamo di volontari e di volontariato, non ci sono soldi investiti da nessuna parte, ci fossero probabilmente, saremmo andati molto più avanti e molto più velocemente, campano di volontariato si vive di queste giornate, di qualcuno che come io, come qualcun altro, si interessa e magari domani va a partecipare all'attività dell'Arcigay, piuttosto dei centri diritti, piuttosto che di questa situazione, ma di questo viviamo e di questo si va avanti, che è il motivo per il quale ci impegna tanto è interessato a capativare a questo tipo di giornate, perché questo vi serve, perché non si ha altro, probabilmente neanche avere più soldi sarebbe così utile, perché avere più fondi comunque non vi permette di influire in qualche modo sugli altri, sono altri metodi. fenomeno un problema con i 30 anni, pure lo Stato, nella Costituzione, c'erano… di quanto è stato… Quante significhe vi sentiamo? Quante significhe… Quante significhe di pensare? Se ci sono stati dei fondi che sono stati destinati a combattere il pocchio, non sono partecipate, non sono delle risultate, ma come dicevo, le risultate ultime basta attraverso una serie di trasi e quindi temere una questionazione successiva che si garantisce da tutte le le risposte del delitto. Il fatto che ci siano delle associazioni, che si possono avere convegni, manifestazioni e quant'altro, chiaramente che risponde alla tua domanda, detende un risposto economico, ma non sempre il risultato è immediato. Il dipartito sulla legge elettorale, che penso sia una forma o preferiosa di scelta dei parlamentari. Sì, infatti, ormai Dari e l'onorevole Naro di militarizzare atto, ma ancora non ne si è giunto il risultato. Questa battaglia per arrivare a un sistema democratico è ancora in atto, ma è ancora in atto più forte in una società che si può sicuramente corsificare come una società civile come la nostra, ma in atto è un risultato. Tutte queste battaglie, queste forme di opposizione a forme di odio, forme di razione, eccetera, comportano degli esporti spessi. Però, purtroppo, tu capirai un giorno che il risultato ultimo al quale noi tendiamo non è immediato, ci vuole del cuore. Anzi, il fatto che oggi si parli di democopie, questo è un grande prezzo dell'Associazione di Verso i minori. È una battaglia per far compatitare, per far obliterare un'idea di valore che però ha necessità di tempo. Oggi ci sono stati probabilmente c'è stata una tensione del 30%. Questo convegno di oggi, che ha anche determinato degli riscorsi economici, avrà un piccolo vassello per far passare un principio. Quindi l'aspetto economico rispetto alla vittoria nel far passare un principio di diritto è un aspetto secondario e quindi è chiaro che è un aspetto fisiologico che riscontriamo in tutte le attività. Quindi non pensare che se sono stati spesi molti soldi per combattere la fame nel mondo e quindi combattere la fame nell'Africa, come mai ancora ci sono i risultati? Perché probabilmente è un percorso più lungo di quello che si possa spessare. Quindi non sempre il risultato è impecchiabile proporzionale ai soldi costitivi. Voglio, se è possibile, e finisco, aggiungere a Dallio Vattu, rispetto a quello che dicevano Dallio Vattu, dal punto di vista proprio della tecnica di formazione e l'onorevole Napoli lo sa bene. Ad esempio, quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote, nell'ambito della legge viene inserita la cosiddetta clausola di imparenza economica. Cioè queste sono leggi che devono essere a costo zero per lo Stato e quindi, diciamo, a Dallio Vattu, rispetto a Dallio Vattu, che assalivano Dallio Vattu, non ci sono proprio degli esbozzi e quindi, diciamo, come dire, degli atti tutti a tasso di transcripto economico per lo Stato quando ci vanno a raciantare queste tematiche. Ovviamente, tenete tempo che se qualcuno non ci interaccia lo accoste non sia assolutamente separata perché, come si sorprengere, senza soldi ma si non sembra da entrare. Grazie. Weci sono state ragioni di transody quanto ci sta, sono contenti di un'associazione per tante domande pot lumière utilemente, grazie a tutti quanti per essere venuti e buona Grazie.